Efficacia della legge sugli scioglimenti dei consigli comunali per mafia, forme di contrasto alla criminalità organizzata e ripristino delle condizioni di partecipazione democratica. Questi alcuni dei temi trattati nel corso dell'incontro dibattito, promosso dal Costituendo Comitato Popolare Metropolitano DDL, ovvero Democrazia, Diritti e Libertà. Convegno si è tenuto a Reggio Calabria nella Sala del Consiglio regionale della Calabria, con la presenza di Rita Bernardini del Partito Radicale, Rocco Cosentino magistrato e scrittore, Andrea Cuzzocrea imprenditore, già presidente di Confindustria, Mimmo Gangemi scrittore. A presiederlo è stato il consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri tra i promotori dell'evento. L'iniziativa ha visto la presenza di un folto pubblico attento e interessato. Carissime amiche ed amici buon pomeriggio. Ci troviamo qui a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale per un appuntamento importantissimo, organizzato, relatore, organizzatore di questo pomeriggio importante per Paolo Zavettieri. Noi siamo della Piana, viviamo per la Piana, siamo per la provincia, siamo per chi veramente vuole il cangiamento nel vero senso della parola. Io mi chiedo, e le chiedo, come mai si arriva continuamente, spesso e volentieri, ad uno sceglimento dei comuni, ad accesso delle commissioni, ad accesso a tutto quello che sta avvenendo. Perché? Non è un cane che si morde la coda. Perché determinate scelte non si fanno all'inizio, quando si vanno a scegliere coloro che sono i candidati, mentre noi arriviamo dopo a fare questi piccoli disastri. Sì, questo glielo lascio, è un suo punto di vista. Io sono addirittura sbilanciato su una versione che va oltre la selezione, perché comunque è una selezione naturale, già quella che prevede alla partecipazione delle competizioni elettorali, chi gode dei diritti politici. Quindi per me già questo è sufficiente. Io nasco da ragazzino in una famiglia in cui il garantismo è la stella polare, diciamo una bandiera, e mantengo questo tipo di visione, perché sono convinto che un criminale fuori possa fare molti danni e se li fa a noi poi diventiamo a favore anche della pena di morte. Però non vorrei mai trovarmi in quella situazione in cui da innocente, non vorrei mai trovarmi in una situazione a dover pagare un prezzo che non è un debito contratto da me con la giustizia o comunque con una criminalità che non mi appartiene, ma non ci appartiene, non appartiene a quelli che sono qui stasera. Quindi molte sono le prospettive che si possono avanzare, quindi le proposte rispetto alla modifica, alla revisione di questa legge. Però è chiaro che ne le possiamo esaurire in una battuta. Chiaramente questa iniziativa dovrà servire molto a far venire fuori da parte degli illustri relatori, ma anche degli interventi che lasceremo spazio anche alla fine ai qualificati ospiti, perché ci sono molti sindaci e amministratori presenti e molti storici amministratori, al fine di trovare anche una situazione, una soluzione condivisa. Condivisa perché la rimozione di una legge nata in emergenza, un decreto, poi legge nata nel 1991, appunto, voi siete della Piana, con un episodio molto cruento di Tauria Nova, che non sappiamo se è tutta verità o anche leggenda, ma è verità che c'è stato un episodio cruento, che andava sanzionato anche con una misura drastica, quella per esempio attuata in prima battuta con il decreto sugli scioglimenti. Ma dopo 26 anni esatti non si può pensare che una legge, che sullo stesso comune, nel caso di Tauria Nova, ma in altri come Roccaforte, come Melito Portosalvo, quasi come Bova Marina, che è al secondo, cioè Tauro anche, non si può pensare che una legge che in 26 anni vede reiterato lo stesso provvedimento per due o tre volte e anche oltre, perché ci sono anche quei commissariamenti quando, come il caso di San Luca, i cittadini non vogliono più andare alle urne perché hanno già la premessa da parte dello Stato che verranno sciolti o addirittura indagati per cose che non hanno fatto. Perché l'intervista delle Iene, che è stata costruita in modo anche discutibile dal punto di vista morale, io dico, ma certamente dal punto di vista dell'attrazione dell'audience è stata costruita bene, evidenzia delle parti negative che non ci sono, ma è evidenzia delle parti reali in cui molte delle famiglie di San Luca, per esempio perché stiamo parlando di San Luca, il 90% porta un cognome scomodo, Pelle, Strangio, Nirta, cognome scomodo da questo punto di vista. Per cui si può parlare di controindicazione, un termine così caro alle nostre prefetture, che evidentemente nel caso di San Luca è attribuibile a chiunque. è evidente che così come l'altra volta giunse a due giorni dalle elezioni nel 2013 lo scioglimento perché i due candidati si chiamavano Trimboli, uno e l'altro Nirta, io li conosco personalmente e per quanto io non sono un inquirente, uno che indaga, li conosco come persone serie, uno è un giovane che oggi si è laureato, allora era appena neolaureato, oggi è un professionista che si muove sul territorio italiano, l'altro era, credo, mansione di operaio ma comunque uno che ha voluto fare un'esperienza e che ancora oggi è attento alla politica per cui non lo confinerei in quella parte sociale definita criminali. Quindi questo ha oggi anche a questi due giovani e meno giovani partecipanti alla competizione di allora li ha scoraggiati a scendere in campo e a tutti gli altri e il fatto che abbiano raccolto 400 firme per chiedere al ministro dell'interno di mantenere la posizione del commissario straordinario, allora ordinario, Gullì, scusate, commissario ordinario perché non c'era lo scioglimento, Gullì perché ha gestito bene, magari a differenza di altri commissari che sono meno interessati, meno impegnati o che vengono da fuori, ha dimostrato grande, diciamo, attenzione verso i cittadini, non è un punto positivo, lo sarà per il dottore Gullì che è anche una persona stimata che conosco e con cui abbiamo collaborato negli anni di comune suo e di consigliere provinciale mio, però è la morte democratica di quella comunità e delle comunità che vengono contaminate in negativo e non in positivo. Sindaco, voglio mettere ancora di più un pochettino il dito nella piega, mi perdoni, ma devo necessariamente fare questo. qualcuno, alcuni giorni fa, ha detto una cosa importantissima, fermi restando che ognuno ha le proprie convenzioni, dice non dobbiamo andare a lottare solo all'andrangheta, ma bisogna capire anche gli amministratori e sa di chi sto parlando anche, chi ha detto questa frase molto bella, molto importante, io ne sono convinto di quello che ha detto, che ne pensa? Non ho colto esattamente il copyright della frase, ma è evidente che non basta, è una frase condivisibilissima, perché non può bastare lo scioglimento, anzi noi siamo assertori che sia addirittura sbagliato, ma che vada combattuta la mafia e il malaffare e create contestualmente le condizioni affinché ci sia una condizione per isolare il malaffare, la malapianta e quindi non utilizzare un diserbante che sia, oggi ci sono i diserbanti diciamo selettivi, non bisogna utilizzare un diserbante non selettivo e altrimenti è come una chemioterapia non specifica che ammazza anche il paziente o come un diserbante non selettivo che fa diciamo morire sia la gramigna, sia la malerba e sia la pianta che vogliamo coltivare. In buona sostanza il sud ma anche il centro, diciamo il centro Italia e il sud Italia sono stati trascurati dai governi che si sono succeduti e diciamo dimostreremo anche plasticamente con delle diapositive, con un powerpoint che proietterà le cartine dell'Italia sotto l'aspetto anche perché ormai la gente è abituata alla comunicazione veloce, alla comunicazione anche il linguaggio virtuale per cui molte parole che diremo non saranno ascoltate. Qualcuno è venuto per amicizia mia personale, altri per rispetto agli altri relatori e molti invece speriamo saranno gli intervenuti per sostegno al tema e proiettarsi verso una sfida nuova che è quella di riconquistare spazi di democrazia. Il costituendo comitato voglio fare una battuta che lanceremo non occuperà la scena di questa giornata ma sarà lanciato in presentazione un comitato che è il Comitato Popolare Metropolitano che prenderà il nome di Democrazia Diritti e Libertà con l'acronimo DDL che si presta anche al disegno di legge si può giocare anche con questo acronimo proprio per farlo rimanere più a mente più in mente alle persone e questo comitato lo dico ma lo ripeterò dentro in conferenza non deve essere finalizzato a nessun tipo di elezione e deve essere non a politico ma a partitico quindi noi lo variamo oggi chi vuole aderire saremo ben lieti di ospitarlo nel comitato poi chi fa politica si tira fuori dal comitato e lo sostiene dall'esterno lo sostiene con le azioni lo deve sostenere con i fatti ultima domanda e concludiamo quando si stila una lista quando si arriva a comporre una lista per le amministrative o altro uno cerca i candidati che necessariamente sono i candidati che ritiene più che vivono più nel sociale che hanno uno scopo che fanno la politica intesa come servizio che danno veramente qualcosa al territorio io le chiedo sindaco onestamente onestamente quando in una lista c'è un candidato che nel territorio non ha dato quell'apporto che doveva dare quando nel sociale non dà quell'apporto che deve dare quando politicamente realmente non dà e non ha mai dato quando un candidato del genere che si presenta riceve 500 suffraggi 1000 suffraggi mi può rispondere su questo gentilmente grazie sì chi è garantista però non può prescindere dall'aspetto che è la legge italiana che gli ha dato il diritto alla candidatura il diritto diciamo ad essere un elettore attivo e passivo questo è un sacrosanto diritto di ognuno che gode appunto di questi diritti politici scusate anche il bisticcio di parole e quindi partiamo da tutto ciò poi chiaramente chi costruisce una squadra siano una volta c'erano i partiti che filtravano a monte adesso sono le persone anzi le personalità nei paesi ci sono 4-5 personalità alle quali si riconosce la patente di semi leader perché non è mai uno leader diciamo completo quelle persone hanno il compito se sono persone che vogliono il bene della comunità di scegliere le compagnie quindi i compagni di viaggio quindi in questo caso non andiamo più su modifiche della legge e riforme o quant'altro ma stiamo parlando del buonsenso delle persone della maturità sia di chi partecipa ma di una comunità in generale perché poi l'ultima parola aspetta sempre all'elettore e l'elettore può scegliere non investire diciamo la persona e come dicono oggi in alcuni ambienti controindicata controindicata diciamo riempirla di preferenze e quindi dandogli poi questo suffragio che lo fa diventare assurgere al leader di una comunità di un paese quindi ci sono vari aspetti non si possono esaurire oggi noi oggi vogliamo centrare il fuoco del problema il fatto che la riforma vada affrontata subito quindi parlamentari consiglieri regionali consiglieri metropolitani e sindaci devono unirsi in una proposta che oggi onestamente senza questa nostra piccola diciamo questo piccolo sassolino lanciato nello stagno dopo il terremoto che è accaduto per gli ultimi quattro comuni per il ricorso vinto da Tropea per l'ultimo scioglimento a Sorbo San Basile che è di queste ore e per tutta una serie di vicissitudini legate alla tematica degli scioglimenti ma anche all'interdittiva antimafia e anche diciamo alcune asfittiche situazioni di tipo democratico per il cittadino vedi la proposta sulla legge elettorale anche che vuole in qualche modo diciamo allontanare ancora di più il cittadino dal rappresentante che deve scegliere quindi nel momento in cui centriamo questi obiettivi e facciamo delle proposte anche concrete dobbiamo investire un Parlamento che abbia diciamo che sia autorevole e che oggi ahimè purtroppo essendo un Parlamento denominato autoreferenziale su tutto non credo ci possa essere diciamo la soluzione in tasca Signor Sindaco per concludere noi di Piana TV l'augurio è questo che noi la possiamo avere quanto prima nei nostri studi che venga nella nostra Piana che viviamo momenti intensi per capire sempre di più e per far capire realmente anche se è difficile ne sono convinto perché appare utopia appare una cosa utopistica che la politica la cosa più banale che io possa dire che la politica è servizio sì io l'aspetto allora intanto mi riempie diciamo di gioia perché io vivo per questo tipo di relazioni non quelle della televisione ma il fatto di venirla a trovare e il fatto di poter comunicare con più gente attraverso il vostro mezzo chiaramente per me che faccio politica è anche un'opportunità di poter spiegare quello che si propone o quello che è in atto rispetto a un progetto che appunto si vuole capillarizzare e rendere capillare appunto su tutta la città metropolitana per quanto mi riguarda ma mi auguro che molti al di sopra diciamo della mia posizione politica possano questo tema sposarlo a livello legislativo in ambito nazionale quindi grazie per l'invito attento la vostra grazie e buon lavoro buona serata siamo con lo scrittore Mimmo Cangemi anche lui questa sera relatore di questa importante riunione direi importantissima dove si cercherà si tenterà io ne sono convinto nel migliore dei modi di fare capire la cosa più semplice che ci possa essere che la politica è servizio dal suo punto di vista quello che sta avvenendo che avviene cioè per quale motivo noi arriviamo al punto allo scioglimento di un comune per mafia si indagano le persone all'interno dei comuni che cosa sta avvenendo non è più un servizio ma è un servizio personale che cosa sta succedendo però registro che la politica non c'è in questo incontro stasera e regolarmente non c'è questo mi fa pensare e mi dà fastidio io le mie posizioni sulla troppo faciloneria di certa magistratura è nota io ho l'impressione che si stia usando il pugno di ferro con la Calabria causando un grave danno a questa terra perché esiste vigi un clima di sospetto e c'è nel cittadino qualunque per bene la doppia paura da una parte del sistema Andrangheta che è terribile dall'altra parte c'è anche il timore della giustizia nel senso che ognuno teme per se stesso che possa capitare di incappare tra le maglie della giustizia che forse qua da noi non va troppo per il sottile e lancia le reti a chi piglia piglia e magari dentro troppo spesso ci vanno a finire delle persone che non meritavano di finire e questo dovrebbe far riflettere ed è un elemento fondamentale anche perché in questa terra macchiata dalla presenza dell'Andrangheta la credibilità della giustizia è molto importante se i cittadini ne hanno timore e viene meno la credibilità noi dai nostri problemi gravi non usciremo facilmente il problema dei scioglimenti dei comuni che avvengono in un modo troppo facile è uno dei problemi più agli occhi che più risalta anche perché poi non c'è un riscontro oggettivo di azioni delinquenziali molto spesso ma a volte c'è ma questo fa pensare e induce a credere che forse faccia interesse a qualcuno alimentare il pregiudizio su questa terra molto oltre i demeriti che questa terra in effetti ha io noto nel suo parlare veramente questo mi fa piacere noto nel suo parlare quest'amore infinito immenso che lei ha per la nostra amata Calabria che ritengo e me lo dica veramente perché sento che lo vuole dire ritengo che non merita quello che sta attraversando siamo d'accordo io sono lo dico sempre sono orgogliosamente rimasto in questa terra perché a parte le brutture che pur ci sono riconosco dei valori umani che qui resistono e altrove sono estinte in via di estinzione però mi piacerebbe che questa terra fosse trattata con i sistemi di libertà e di democrazia che valgono per altre regioni d'Italia e qui valgono molto meno io la ringrazio e le volevo chiudere con un'ultima domanda fermere tanto che all'inizio non volevo intendere come politica lo so benissimo me lo ho capito benissimo io le voglio fare questa domanda perché mi fa piacere sentirla parlare veramente quali dei valori lei a quale valore veramente crede di più e a quale valore si sente di dare a questa nostra Calabria per liberarla per farla sentire e volare noi mettiamo sui due piatti della bilancia le negatività e sull'altro le positività il piatto pende dalla parte delle positività questo è un popolo generoso l'accoglienza la solidarietà il calore umano il senso della famiglia che ancora qua resiste altrove si va perdendo l'allegria la gioia di vivere sono una serie di elementi che fanno pensare che questa gente sia molto meno brutta noi di quanto tendano a descriverci di come siamo stati fatti pensare perché parte anche da questa terra un'idea negativa nei confronti di chi la abita ma è un'idea spesso artefatta spesso costruita d'arte magari senza crederlo solo perché va incontro a delle mire particolari di chi estende certi pensieri negativi ringraziamo a Mimmo Gangemi da Piana TV Piero Culleri a Mimmo Gangemi